buongiorno a tutti e benvenuti siamo qui con il vice direttore della tecnica della scuola reginaldo palermo per parlare di iscrizioni scuola 2024 2025 come sappiamo secondo la bozza che è stata presentata ai sindacati l'undici dicembre le iscrizioni scuola 2024 2025 potranno avvenire dal 18 gennaio al 10 febbraio 2024 attraverso la piattaforma unica ora come sappiamo si tratta di date spostate un po più in là rispetto agli anni passati l'anno scorso la scadenza era fissata al 30 gennaio l'anno prima addirittura il 28 gennaio chiederei al prof palermo come mai questo posticipo ma la motivazione credo che sia legata soprattutto al tema della riforma del tecnologico professionale cioè la cosiddetta filiera di cui si parla ormai da mesi il problema è che non non è ancora tutto pronto e quindi bisogna un po prorogare i termini per le iscrizioni spostare i termini delle iscrizioni in modo da poter consentire alle scuole di informare adeguatamente gli studenti e le famiglie dell'avvio di questi nuovi percorsi ehm il problema noi l'avevamo segnalato già da molto tempo eh già da tempo noi appunto diciamo che eh questa riforma eh può provocare dei problemi legati appunto alle iscrizioni in effetti adesso siamo arrivati al punto e eh così sta eh avvenendo ecco ci auguriamo ovviamente che questo spostamento del termine delle iscrizioni possa servire in qualche modo ad affrontare la questione non ne sarei così convinto perché eh c'è comunque il fatto che entro il 30 di dicembre almeno per ora le scuole eh dovranno in ogni caso registrarsi sulla piattaforma per dire per esprimere la loro intenzione di partecipare alla alla sperimentazione ma se le iscrizioni saranno dal 18 di gennaio al 10 di febbraio questa data del 30 di dicembre mi risulta un po' poco chiara quindi questa è un po' la situazione poi oltre al tema della della filiera tecnologico professionale c'è anche il tema del ehm liceo made in Italy che anche questo eh non si capisce bene se riuscirà a partire per il settembre del duemilaventiquattro quindi il tema è un po' questo qua. Certo tutto questo che sta causando questo ritardo ovviamente siamo ancora in attesa della circolare che dovrebbe essere pubblicata a giorni ehm quali potrebbero essere le conseguenze di tutto ciò? Ma eh le conseguenze potrebbero essere anche abbastanza importanti perché eh al al alla procedura eh delle iscrizioni sono legate anche le procedure successive e cioè le operazioni di eh mobilità del personale docente e non docente e eh soprattutto anche le operazioni legate alla definizione degli organici per il duemilaventiquattro venticinque quindi eh c'è un po' il timore che eh andando troppo in là con le date per eh mobilità e eh definizione degli organici eh si possano creare difficoltà come accade molto spesso anche con l'avvio eh dell'anno scolastico duemilaventiquattro venticinque cioè le iscrizioni sono un po' un punto di snodo. Se si spostano le date delle iscrizioni ovviamente bisognerà poi spostare tutto il resto. Spostare tutto il resto significa mettere a rischio il buon avvio dell'anno scolastico ventiquattro venticinque. Vedremo come eh il ministero riuscirà a risolvere quest'anno questo problema. Certo. Adesso ci può dare qualche dato. Quanti alunni interessano le iscrizioni? Allora le iscrizioni interessano eh con la procedura, con la modalità online eh tutti gli alunni che entrano nella scuola primaria, quelli che entrano al primo anno della secondaria di primo grado e quelli che entrano nella eh secondaria di secondo grado. Quindi più o meno siamo sull'ordine di un meno di un milione e mezzo di alunni. Potremmo essere intorno a un milione e trecentocinquantamila, un milione e quattrocentomila circa. Poi ci sono i bambini che invece si devono iscrivere alla scuola dell'infanzia che potrebbero essere intorno ai trecentocinquantamila circa, ma per questi non si userà la procedura online, si continuerà con la eh iscrizione con modello cartaceo. Quindi diciamo che complessivamente eh il numero varia tra un un milione e seicentomila eh bambini, un milione e settecentomila bambini, insomma poi è chiaro che questo numero non può essere calcolato con precisione perché si tratterà anche di vedere quanti invece alla scuola eh statale eh preferiranno la scuola eh paritaria, la scuola non statale, quindi i numeri comunque dal più al meno dovrebbero essere questi. Bene, bene, grazie al vice direttore della tecnica della scuola Reginaldo Palermo per questi chiarimenti e ci vediamo al prossimo approfondimento. Un saluto. Grazie a tutti. Grazie.